Today I will try to win the second run of Squid Game. No, the umbrella! With your mini spatola cut the sand Dogona candy in the shape of the umbrella. Be careful, if you will broke the shape, the consequence can be terrible. How could I survive the Dalgona game? That's not! When you get to round 2 in the Squid Games, Let the game begin! Yo, y'all wildin', how am I supposed to get Florida out? Yo, wait, I'll be right back, let me just get another cookie! Player 69 eliminated! To the people of the Squid Game, you do make it on the Jib's찧! Let the착o open for the next video! If you want to go out, let the lids up, let the lids up! You do make it on the Jib'strapids! If you want to go out, it'll be right back! For the days of the Jib'strapids, If you want to go out, You'll be right back! I'm going to see if I can survive one of the squid games. I'm pretty sure this is a leaf. For some reason, it's the only cookie cutter I could find. I wish I was joking, but this candy took me so long to get right. What worked best for me was putting the sugar into the pot, not touching it. I sat there and I watched it melt until I added the baking soda and then I started stirring it. Poured it onto my nonstick mat that I also sprayed because I trust nothing. I messed up too many times. After the candy sat there for 20 seconds, I pressed it down slightly with the cup. And then immediately, I put on the cookie cutter. I barely put any pressure on this. If you put too much, it's gonna crack. I learned that the hard way. Okay, I'm going to see if I would get eliminated or not. It's a moment of truth. I'm still good. I'm still good. I'm literally shaking. Shack 219 has been eliminated. I'm not going to lie. I thought I could do it. For those wondering, it does taste really good. I'm not going to lie. I'm not going to lie. I'm not going to lie. Ppppppppppppppppppppp Parti ball occidentiano Grazie a tutti. il dibattito di freddo la provoca la gente si freddo si freddo il bambino si freddo si freddo più si freddo si freddo E questo tipo di faccio che voglio mettere un po' di tutto quello che un po' è un po' di per il po' di tutto il po' di tutto. Si è un po' di tutto questo. Sì, si fa una boccia con un po' di più. Se è più piccolo, quindi cecchè come si è diversa. Non è stato così C'è cosa che buona ti ha? D'altro la pesce più di la pesce molto stora Ce le pavone sono un po' di Q. E' stato molto importante Da dei fatti che hai C'è il g. Ma uguale è Cosa delle pique Cosa delle pique Quanghtarie è questa Cosa è la forma Quanghtarie è questa Cosa è questa Cosa è il mio Cosa sono scendere Cosa Il fatto che si è un po' di un po' di più successo. Non è così facile, non è così facile. Non è così facile, non è così facile. 70 volte per il po' di più di un po' di più di un po' di più. Un po' di più! Un po' di più! Oh, un saluto! Un saluto! Ci sono i ragazzi di più di un giro di un giro di un giro di un giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.